Buongiorno 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 E' già cascato Maurizio Allora oggi Telenuvola Telenuvola Allora Giro complicato Cocullo, Cocullo No, 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 che Cocullo, Cocullo Rapina bene No, che rapina bene Il giro del Bocconotto Allora decidiamo quale giro del Bocconotto vogliamo fare Però questo è grave E' grave, però il Presidente decide che oggi si farà quello che abbiamo fatto la nostra Punto Benissimo, benissimo Siccome ha detto anche mia moglie Passando dal volto sano Brava, brava Va bene Per me Per te è un Gappucciotto La prima cosa che Gabriele C'è pure il Gabriele Gabriele Arrivo Gabriele Allora come fa la foto? Va bene, ciao Aspetta, non fa la foto Aspetta, aspetta, aspetta Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma che succede? Che succede a queste gomme? Come mai? Come mai? Come mai? Che siamo rinchiunti? Troppo forte. Non l'abbiamo... C'è un mio sentente sentente... ...che sono rincuorato. Ma perché? Non è successo da me allora. C'era tutto l'incontrarti. Ah! Io quando esco da casa sono libero. Credo di essere libero. Ho degli amici. Facciamo sentire a casa. C'è anche il maestro Mario questa mattina. C'è anche i picchi qua. Eh, appunto. E' un po' di caldo. E' un po' di caldo. C'è anche il caldo. E' un po' di caldo che si avviene l'aluzio. C'è anche il caldo. povero colombo non sono colore non mi ricordo non mi ricordo ma tu non mi ricordo ma tu non mi ricordo ma il mio nipote è quello che ho piccoli qua canta ma povero garbiano che altro che altro che altro che altro la pancia è sposta sono mi ricordo zi in in un Grazie a tutti.